Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. In questo video parleremo dell'atomo di Bohr. Esso segue la video lezione sui modelli atomici di Thomson e Rutherford, quella inerente l'ipotesi di Planck e quella riguardante l'effetto fotoelettrico, i cui link ve li lascio in descrizione. Il modello atomico di Bohr non è un argomento di facilissima comprensione, ma attraverso l'ausilio di opportune animazioni e simulazioni realizzate nel video è possibile capire meglio tale argomento. Vi ricordo di sostenere il mio canale iscrivendovi, lasciando un like e i commenti. Il modello atomico dell'atomo di Bohr è stato uno dei primi modelli semiclassici riguardanti la quantizzazione dell'energia che descrive la struttura atomica. Sebbene sia un modello ormai superato e inesatto quantisticamente, fornisce tuttavia dei risultati corretti per quanto riguarda l'atomo di idrogeno e ha aperto la strada a tutta la formulazione della meccanica quantistica. L'idea di Bohr nasce a seguito dello studio dello spettro di emissione dell'idrogeno, che aveva messo in evidenza il presentarsi di una radiazione non continua, ma solcata da righe corrispondenti a determinate frequenze o lunghezza d'onda. Consideriamo l'idrogeno e disegniamo una serie di circonferenze concentriche corrispondente ai vari livelli di energia via via crescenti. Quando si eccita un elevato numero di atomi di idrogeno, i cui elettroni si trovano nello stato fondamentale n uguale a 1, non tutti passeranno sullo stesso livello energetico. Alcuni salteranno a livello 2, altri al 3, al 4 e così via. Tutti gli elettroni eccitati tenderanno a riportarsi immediatamente allo stato fondamentale n uguale a 1, riemettendo sotto forma di radiazione la stessa quantità di energia assorbita. E poiché gli elettroni sono saltati su livelli di energia differenti, diverso sarà il percorso da essi per tornare allo stato fondamentale. Si avrà dunque l'emissione contemporanea da parte degli atomi di diverse frequenze o lunghezza d'onda che nel loro insieme andranno a costituire lo spettua di emissione a righe dell'idrogeno. Vediamo ora in dettaglio questo fenomeno. L'idrogeno possiede un solo elettrone che si trova nello stato fondamentale a cui corrisponde la minima energia. L'elettrone può passare a un livello superiore solo se lo si eccita fornendogli la quantità di energia corrispondente alla differenza delle energie dei livelli considerati. Ad esempio, se volessimo fare saltare l'elettrone dal livello 1 al livello 4, la quantità di energia che bisognerà somministrare deve essere pari alla differenza di energia tra il livello 4 e il primo livello, quindi ΔE uguale a E4-E1. Una volta effettuato il salto, l'elettrone tenderà a ritornare immediatamente al primo livello energetico, però il suo ritorno può avvenire in due modi, o saltando direttamente dall'orbita eccitata a quella fondamentale riemettendo la radiazione corrispondente, oppure il ritorno allo stato fondamentale può realizzarsi con una successione di transizioni intermedie a livelli di energia via via più basse. Ad esempio, consideriamo tre elettroni che occupano rispettivamente il livello energetico 5, 4 e 3 e si supponga che ognuno di essi passi a livello 2 di energia. In questo caso saranno riemesse diverse radiazioni, a ciascuna delle quali è associabile una energia pari alla differenza di energia tra i due livelli interessati. In quella determinata transizione riemetterà prima la riga corrispondente alla transizione dal livello di partenza a quell'intermedio e poi quella relativa al passaggio dal livello intermedio a quello fondamentale. Uno studio approfondito degli spetti di emissione dell'idrogeno ha permesso di definire una serie di righe spettrali, i cui nomi derivano dai loro scopritori. Quando l'elettrone passa direttamente dallo stato eccitato al livello minore di energia n uguale a 1, abbiamo quella che viene chiamata serie di Lehman e queste radiazioni cadono tutte nell'ultravioletto. Se l'elettrone passa ad un livello intermedio, cioè al secondo livello, avremo la serie di Balmer che cadono nel visibile e nel vicino ultravioletto. Se l'elettrone passa al terzo livello avremo la serie di Paschken che cadono nel visibile e nell'infrarosso. Se passa al quarto avremo quella di Brackett che cadono tutte nell'infrarosso. Se passano al quinto avremo la serie di Fund che cadono anch'esse nell'infrarosso. In buona sostanza le righe di Lehman corrispondono all'arrivo sul primo livello energetico di elettroni provenienti da altri livelli superiori. Quelle di Balmer a transizione da livelli superiori sino al secondo, quelle di Paschken da livelli superiori sino al terzo, quelle di Brackett da livelli superiori sino al quarto e quelle di Fund da livelli superiori sino al quinto. Nonostante l'ospetto di emissione dell'idrogeno appaia complicato, una semplice spiegazione a tale fenomeno fu fornita da Balmer e Ritz, i quali proposero la seguente formula che mostrava tuttavia carattere esclusivamente empirico. Dove Ni rappresenta la frequenza in termini di numeri di onda, R è la costante di Reitberg ed N è un numero intero che assume valori maggiori di 2, dove N2 è maggiore di N1. Tale relazione consente di ottenere la posizione di tutte le righe sostituendo semplicemente ad N i valori 3, 4, 5 ecc. Una possibile interpretazione fisica che razionalizzi la formula di Balmer e Ritz venne fornita nel 1913 dal fisico danese Niels Bohr, il quale, mettendo insieme le idee di Planck e di Einstein, andò a correggere il modello atomico proposto da Rutherford. Come sappiamo, Rutherford proponeva un modello planetario, in cui si afferma che quasi tutta la massa era concentrata in un nucleo a carica positiva, attorno a cui ruotano gli elettroni. Tale modello era però instabile, in quanto in netto contrasto con la materia elettromagnetica, secondo cui gli elettroni che si muovono di moto circolare intorno al nucleo avrebbero dovuto emettere onde elettromagnetiche e perdendo energia a colassare sul nucleo. Dunque Bohr enunciò una serie di postulati particolarmente innovativi. Innanzitutto, l'atomo ha un insieme discreto di livelli di energia indicati con e con 1, e con 2, e con 3, e via discorrendo. Al pari della teoria di Rutherford, Bohr affermò che l'elettrone debba sì percorrere orbiti circolari, ma impose una condizione essenziale, e cioè che in un atomo nel suo stato fondamentale, cioè a contenuto minimo di energia, gli elettroni sono in movimento ma non irradiano energia. Bohr ipotizzò dunque che esistessero alcuni stati tra gli infiniti possibili nei quali l'elettrone potesse muoversi senza emettere energia, conservando cioè costante la sua energia totale, che sappiamo essere uguale all'energia cinetica più quella potenziale. Questi stati furono chiamati col termine di stati stazionari. Pertanto Bohr, contraddicendo la fisica classica, applicò al sistema atomo la teoria di Planck e concluse che il presupposto affinché un elettrone che si muova su un'orbita circolare attorno al nucleo, non irradia energia, e che il valore del suo momento angolare sia un multiplo intero della grandezza h fratto 2π, dove h è proprio la costante di Planck. Questa condizione implica che il momento angolare di ciascun elettrone non può assumere qualsiasi valore ed imporre questa limitazione significa proprio introdurre il concetto di quantizzazione. Pertanto il momento angolare può variare solo per quanti multipli interi del valore minimo h fratto 2π. Indicando con m la massa dell'elettrone, con d la sua velocità, con r il raggio dell'orbita che esso percorre, la quantizzazione del momento angolare secondo Bohr è espressa dalla seguente relazione. Mvr è uguale a n che moltiplica h fratto 2π, dove n fu indicato come numero quantico principale e può assumere soltanto valori interi che vanno da 1 a infinito. In base a questi presupposti Bohr riuscì a quantizzare sia i raggi delle orbite dell'elettrone dell'atomo di idrogeno e sia i loro corrispondenti valori di energia. Affinché un corpo in movimento descriva una traiettora circolare è necessario che la forza centripeta e quella centrifuga siano uguali. Pertanto, uguagliando la forza centripeta con quella centrifuga, ne dedusse la seguente formulazione, attraverso cui è possibile determinare i raggi delle orbite. R rappresenta il raggio dell'orbita permessa, h la costante di Planck, m la massa dell'elettrone e d la carica dell'elettrone. Poiché n può assumere solo valori interi e sostituendo tali valori nella relazione otterremo i corrispondenti valori dei raggi permessi. Il primo raggio chiamato proprio di Bohr per n uguale a 1 sarà pari a 0,053 nanometri. Per n uguale a 2 la distanza sarà pari a 0,212 nanometri per n uguale a 3 sarà pari a 0,477 nanometri. Pertanto l'elettrone dell'atomo di idrogeno potrà ruotare attorno al nucleo soltanto a queste distanze. Sempre secondo Bohr ad ogni orbita corrisponde un definito valore dell'energia dell'elettrone che la percorre. Anche questa quantizzata. A ciascuna orbita può essere associato il valore di energia che l'elettrone possiede quando la descrive. La sua energia è data dalla somma dell'energia potenziale e quella cinetica. Anche in questo caso, uguagliando le due energie e dopo diverse sostituzioni, Bohr ottenne la seguente relazione che quantizza i valori di energia degli elettroni posti su diversi livelli energetici. I valori possono essere espressi sia in Joule che in electron volt. Pertanto, se si fornisce energia all'elettrone che si trova ad esempio allo stato stazionario n uguale a 1, esso potrà essere assorbita solo se è sufficiente a farlo saltare dal primo stato stazionario a 1 successivo. L'elettrone citato tenderà poi spontaneamente a ritornare allo stato fondamentale riemettendo l'energia assorbita sotto forma di radiazione. In questo caso Bohr richiama la teoria di Einstein, il quale aveva stabilito che ad una radiazione di frequenza Ni è associato un quanto di energia detto fotone. Vediamo dunque come attraverso un semplice calcolo sia possibile determinare ad esempio la lunghezza d'onda di una radiazione emessa da un elettrone che passa dal livello energetico 2 al livello energetico 1. La variazione di energia espressa in Joule è uguale alla differenza di energia e con 1 e con 2. Quindi ΔE è uguale a meno 54,39 Joule meno 217,5 Joule il cui valore sarà pari a 163,11 per 10 alla meno 20. Sappiamo anche che l'energia è uguale alla costante di Planck per la frequenza. Infatti E è uguale ad h per Ni. Da questa formula ci ricaviamo la frequenza che è pari a 24,616 per 10 alla meno 14 secondo al quadrato e poiché sappiamo che la lunghezza d'onda è pari alla velocità della luce fratto la frequenza otterremo il valore di lunghezza d'onda corrispondente che è pari proprio a 122 nm. Questo valore di lunghezza d'onda cade nell'ultravioletto appartenendo a quelle che abbiamo detto serie di Lima. Applicando i medesimi calcoli per transizione dai livelli superiori al livello 2 otterremo tutti i valori delle lunghezze d'onda che rappresentano in questo caso la serie di Balmer che cade nel visibile. Ecco spiegato lo spettro di emissione dell'idrogeno nel visibile. Il modello atomico proposto da Bohr pur se valido per l'atomo di idrogeno fu un tentativo provvisorio di interpretare la struttura atomica dell'atomo. Infatti applicando la sua teoria all'atomo di elio che presenta due elettroni questa teoria mostrò delle grosse lacune.